c'è sempre il solito problema quello che ormai ci assilla da un bel po di tempo e che non siamo mai riusciti a debellarlo sono stati scritti liberi ricerche scientifiche un sacco di roba però ragazzi continuano a fare uso del cellulare e non un uso modesto ma un uso smisurato la cosa più grave è che cominciano a farlo anche durante attività sportive che cosa intendo per attività sportive ovvio no durante lo sport ma nello spogliatoio nei luoghi in cui si sta insieme gli atti compagni in squadra per esempio piuttosto che parlare fra di loro sono là col cellulare a mandarsi whatsapp o su instagram la soluzione potrebbe essere quella di distruggere tutti i cellulari ma ovvio che ne verrebbe meno anche il cellulare di noi adulti l'altra soluzione quella molto più plausibile sarebbe quella di cominciare dall'allenatore l'allenatore potremmo non utilizzare il cellulare nello spogliatoio potremmo arrivare meno volte con il cellulare in mano e sicuramente potremmo andare meno volte in campo o in palestra con il cellulare in tasca so che è impegnativo so che sono cose difficili anche perché anche io personalmente a volte trasgredisco queste regole e vuoi l'allenamento scritto sulle note del cellulare o altre cose del genere resta il fatto che se siamo un esempio per questi ragazzi e loro imitano tutti i nostri comportamenti e osteggiamenti questo sarebbe un bellissimo comportamento che potrebbero imitare tu che ne pensi scrivono nei commenti